Sì, ok, d'accordo che si sta avvicinando Halloween, ma manco a far così però, eh? Poi arriviamo a capire il perché questo è un momento veramente terrificante per la Juve, per rimanere sul gioco di parole il parallelismo con il mese di ottobre. Oggi pomeriggio sarà ospite dei ragazzi di Life Bianconera, quindi se avete voglia di ascoltare un po' di chiacchiere a tema Juve, vi aspetto sul loro canale Tic per le 4, quindi dalle ore 16 in poi dovrei essere lì disponibile. Perché vi dico che è un momento Halloween per la Juventus? Beh, non solo appunto per il momento temporale nel quale stiamo vivendo, ma anche per via di quelli che saranno gli indisponibili e di conseguenza i convocabili per la partita con la Lazio. D'altro ricordo un Halloween un paio di anni fa, doveva essere Halloween se mi pare di sì, in cui perdiamo a Verona con doppietta il ciolito Simeone. Proprio un ricordo che mi piacerebbe lasciare da parte e dimenticare, ma in questo momento la Juventus è in una fase di emergenza. Ne avevamo già parlato comunque questa settimana sul canale. Avevamo già preso in considerazione l'ipotesi di un Cobainers fuori per tanto tempo. Bisognerà cercare di capire quanto questa costola andrà a impattare sul recupero del giocatore, sugli allenamenti e tutto quanto. Si aggiunge pure, così perché non potevamo farci mancare niente, Weston McKennie, che stamattina era presente al J Medical, ha eseguito gli esami strumentali e ora attendiamo semplicemente il comunicato della Juventus, che dovrebbe uscire a minuti. Solitamente questi comunicati escono poco dopo l'ora di pranzo, però io volevo comunque portarvi il video in anteprima. Si teme appunto la lesione muscolare. Nel caso di lesione lo stop sarebbe lungo, si parlerebbe sicuramente di almeno un mese di stop. Poi bisogna anche sempre valutare la lesione, ma per evitare solitamente delle ricadute si cerca anche di dare qualcosina in più al ragazzo per recuperare. Nella clip che abbiamo visto camminava serenamente, ma la lesione muscolare, lo sappiamo, è anche un pochettino bastarda, perché se si è riassorbita poi nel giro di un paio di giorni, se non è particolarmente importante ovviamente, si riesce a camminare, non è la rottura di un osso, di un crociato, che ha bisogno di stampelle o robe del genere. Però poi dal punto di vista del campo, aggiungiamolo anche all'infortunio muscolare subito da Nico González, iniziamo a essere molto molto tirati nelle zone alte del campo, quindi centrocampo attacco, anche perché poi ci sono delle piccole buone notizie, perché l'infermeria inizia un pochino a svuotarsi, abbiamo UEA che va a recuperare da quel problema la caviglia, tra l'altro UEA, non so se vi ricordate, ma Tiago Motta già nella conferenza stampa pre-Juventus-Cagliar come aveva detto, il ragazzo in teoria sta bene, si è allenato con noi, si è allenato col gruppo, però lui continua a sentire dolore, e quindi quando senti dolore si cerca di evitare lo sforzo e appunto il male al giocatore. Questa pausa nazionale è stata utile per recuperare almeno UEA, poi bisogna anche vedere come torna, perché i giocatori che tornano dagli infortuni, lo sappiamo, non è che siano sempre belli, pimpanti, tranquilli, carichi, abbiamo visto anche Turam che si era fatto male proprio insieme a UEA in occasione di Juventus-Como, la prima partita stagionale, UEA quando è tornato dall'infortunio, abbiamo visto faticare un po', vuoi perché anche Turam ha questa struttura fisica importante, UEA sicuramente è un po' più lesto a entrare in condizione fisica dopo uno stop, però dopo gli infortuni, sappiamo sempre che ci vuole un po' di calma, l'unico che veramente dopo l'infortunio è tornato al 100% è stato con Seisao, che è tornato in una forma strepitosa, ma anche qua credo che si possa aprire un discorso relativo a quelle che sono le caratteristiche fisiche del ragazzo, giocatore tutto basso, baricentro basso, che ha bisogno soltanto di scattare su quella fascia, di sprintare su quella fascia, anche lui con la lastra sarà indisponibile. Ottimo, Bremer con Mainers, con Seisao, cioè McKennie, ne abbiamo un milione. Dovrebbe essere tornato Aztic, che anche lui ha avuto dei problemi muscolari, io su Aztic ho un po' un dubbio, cioè le due linee di lettura in questo momento su Aztic sono le seguenti, o non era abituato a dei carichi di lavoro così alti, e quindi quando si è ritrovato alla Juventus in una condizione in cui doveva andare di più, di più e di più per entrare in condizione, ecco che i muscoli non hanno retto lo sforzo, oppure lo stanno facendo crescere molto dal punto di vista muscolare, noi sappiamo che quando c'è una crescita muscolare improvvisa e soprattutto una crescita muscolare importante, i giocatori, soprattutto i giovani, hanno questo periodo in cui vanno a rotazione, a incappare in uno stop muscolare dopo l'altro. Quindi vediamo quale delle due è, spero più quella dei carichi, perché una volta abituato al corpo a determinati livelli, sarebbe anche più facile per lui, se è la crescita muscolare il rischio è che possa continuare a fermarsi spesso e volentieri durante la stagione, speriamo di no. Abbiamo parlato di Komeners, di McKennie che sono i giocatori solitamente a ridosso della punta, abbiamo parlato di Conce Sao, abbiamo parlato di Nico Gonzalez, vedete quanti giocatori offensivi stiamo nominando, ti prego Dusan Vlaovic, almeno tu reggi, cioè ci servi veramente al 100%, perché se anche Vlaovic inizia ad avere problemini, non ci stiamo più dentro, così come Ildis, che è protagonista anche con la sua nazionale, però dobbiamo cercare di preservare questi due giocatori qui, principalmente, se vado a immaginarmi l'attacco che schiererà Tiago Motta contro Lazio, Vlaovic, Ildis, Bangula, e se Weah sta bene, Weah, che deve tornare subito impattante, anche perché davvero non mi vengono in mente altre possibilità se non schierare cambiaso esterno alto, che potrebbe assolutamente essere un'opzione, però con anche l'infortunio di Bremer iniziamo a diventare corti dietro, e quindi poi cosa fai? Metti Savona a destra e a sinistra, Caballo Ruiz, boh, può essere, però contro Lazio dei giocatori che fino adesso Tiago Motta ha dimostrato di non essere proprio focalizzato su questi due giocatori, sarebbe un test molto molto importante, vedremo anche perché sono entrambi i giocatori che sono andati via con le nazionali, adesso per fortuna terminate queste partite, torneranno tutti, quindi ci saranno un paio di allenamenti, forse tre allenamenti fatti bene, qui Tiago Motta potrà valutare anche lo stato di forma dei ragazzi che hanno viaggiato, giocato, che si sono allenati, eccetera, eccetera, però come stiamo cercando di, no, un brainstorming generale su quella che possa essere la formazione con Lazio, o ci sono dei rischi da assumersi e quindi i giocatori che rientrano all'infortunio devono andare in campo oppure devi cercare di inserire all'interno della formazione dei giocatori che fino adesso non sono stati proprio i preferiti dell'allenatore, quindi come la metti, la metti, la coperta è corta perché tira da qualche parte, in realtà anche i centrocampisti, prima erano tanti, era il reparto forse che avevamo, in cui avevamo un po' più di ricambio in generale, con gli infortuni di Komeners e McKennie, ora, insomma, questo discorso non lo possiamo fare, se l'attacco è decimato, se la difesa, che sembrava secondo me forse il reparto un po' più ballerino, nonostante l'infortunio di Bremer, hai la possibilità, giocatori come Danilo, che hanno visto il campo, possano andare dentro, centrocampo con questi due stop, che per fortuna sono stop brevi, si spera, non particolarmente lunghi, o comunque non impattanti come quello di Bremer, Locatelli, Fagioli, Turam e Douglas Lewis in questo momento, non è che l'abbondanza, no, assolutamente, poi, se proprio proprio si potrebbe riaggregare al gruppo anche quella bestia di Arthur, bestia ovviamente in senso buono, per modo di dire, che è un giocatore in questo momento comunque fuori dal gruppo, fuori dal contesto squadra, ma della Juve, inserito anche in lista Champions, secondo me anche un po' a sorpresa, un giocatore che ha puntato i piedi, è voluto rimanere alla Juventus, aveva anche delle opportunità di mercato negli ultimi giorni, che non sono state poi concretizzate, quindi, io non credo che possa venire aggregato Arthur, anzi, secondo me delle due si andrà a pescare qualche ragazzo in next gen aggregato alla squadra, e secondo me, ora come ora, la Juventus ha bisogno di almeno uno o due giocatori, soprattutto davanti, davanti proprio a necessità di avere, siccome è un giocatore aggregato dalla next gen, a centrocampo in questa situazione d'emergenza, in cui dovremo valutare quanti giorni McKennie e Commerer saranno disponibili, chissà che Arthur non possa quantomeno andare in panchina. La partita con l'Alazio sarà un bel test, perché quando ci sono queste situazioni d'emergenza qui, le squadre poi riescono magari a tirar fuori quel qualcosa in più, se sono delle grandi squadre, o delle squadre che stanno lottando per diventarle, quindi sì, è una situazione in cui dobbiamo farla conta, tu sei vivo, tu sei morto, tu puoi quantomeno zoppicare qualche minuto, tu lo puoi fare, però è anche veramente un test dal punto di vista emotivo, dell'impatto psicologico che può avere questa squadra nei momenti di difficoltà, per capire se sono davvero pronti a farci vivere delle grandi emozioni. Voglio sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, per gioco, se volete potete anche provare anche voi a realizzare, ad allestire quella che potrebbe essere la line up, è quantomeno offensiva, dopo siamo molto molto tirati, ripeto, per me Bangula, Cambiaso, Ildiz e Vlaovic, ve la dico già adesso, i quattro davanti, credo che saranno quelli, non so se mi sbaglierò di tanto, l'unico dubbio che mi porto dietro è quello di Weah, che però buttare in campo, così, il recupero dopo un infortunio, che sì, non è un infortunio di qualsiasi quale livello, è una distorsione alla caviglia, però secondo me è sempre un po' rischioso. Ciao a tutti ragazzi, e ci vediamo presto.